Allora, salve a tutti, mi presento, io sono una incaricata Snap e voglio spiegare i miei motivi perché ho scelto pure di fare l'incaricata Snap. Perché ho scelto di lavorare online, perché per il momento non si trova lavoro fuori, fuori da internet. Siamo, beh, cerchiamo di essere coscienti che non tutte le persone sono fortunate a trovare lavoro fuori, però io spero, spero che anche se lavoro online anche, spero di trovarlo anche fuori per avere una vita sociale. Però, un pro che voglio dire, che si possono conoscere facendo i lavori online altre persone mettendo annunci su siti di annunci gratuiti oppure mettendoli a pagamento. Secondo se uno ha la possibilità di pagarsi gli annunci, li mette anche a pagamento e avrà più clienti o più incaricati, troverà. Invece c'è chi non può, come me, pagarsi gli annunci e allora li trova col tempo. Però, vi dico che questa è una motivazione. Perché? Perché è una motivazione? Perché da una persona che ti chiede informazioni, che ti risponde all'annuncio, può nascere una conoscenza. E quindi dalla conoscenza poi ci si può scambiare informazioni anche di altro tipo, cioè raccontarsi. E chissà se poi ci si può conoscere anche di persona, non si sa mai. Io penso questo, perché è importante. E poi un'altra motivazione perché non serve la patente, non serve la macchina, quindi non serve spregare benzina. Un'altra motivazione perché si lavora online e anche perché non ti chiedono il requisito del diploma di maturità. Perché non tutti hanno il diploma di maturità, per esempio io non ce l'ho e non ce l'ho neanche la laurea. Però non sono stupida, come vedete. So fare tante cose. Cioè, è la vita che poi mi fa imparare le cose. Perché a scuola si impara una parte della vita, una parte. Però poi quando finisci la scuola, ovunque tu arrivi con i studi, dopo c'è la vita. In qualche modo devi campare. E quindi ti metti a cercare. Se sei a usare il computer e sei appassionato di informatica, oppure che non lo sei, ti metti a cercare. E dove vai a cercare? O sui giornali, comprando i giornali dal giornalaio e gli spendi soldini. Oppure online. Che non spendi soldini. Vedete, c'è molto risparmio a fare le cose online. C'è molto risparmio. Risparmio anche di carta. Capito? Risparmio anche di carta. Perché gli annunci restano sempre pubblicati online. Perché poi li puoi sempre rinnovare. Per farli essere sempre pubblicati. Cioè, si possono fare tante cose, come vedete. Poi non si fanno file ai supermercati. Perché per lavorare online si deve anche comprare. Come se comprereste dal vivo. Dovete mettervi in testa così. Immaginatevi di stare davanti a un computer. Vi piace una cosa. La stessa cosa che vi è piaciuta online. Magari l'avete vista al mercato, al supermercato. Nei negozi specializzati. Però costa di più. Costa tanti soldini. Allora perché non risparmiare? Perché non trovare la stessa cosa in un specifico negozio online? E magari puoi risparmiare. Magari puoi risparmiare perché ci sono dei sconti. Puoi risparmiare perché te la portano a casa ai corrieri. A proprio domicilio. Puoi scegliere come pagare. Non fai, come vi ho detto, le file alla cassa. Non vai dal benzinaio a fare la benzina. Perché non usi la macchina. E quindi inquini di meno anche in quel senso. Inquini di meno. E inquini di meno anche la carta. Le foglie di carta. E rispetti la natura. E così rispetti la natura. Quindi questo è. E poi sei comodo, comodo a casa. Adesso che poi arriva l'autunno. Poi dopo l'autunno, l'inverno. Arriva il freddo. E quindi hai poca voglia di uscire di casa. E quindi vorresti fare qualcosa in casa, al calduccio, vicino a un cammino. O elettrico, oppure un cammino vero. Mentre guardi la tv. Vorresti conciliare il privato con il lavoro. Ecco, online si può fare. Online si può fare. Non hai orari per lavorare. Cosa devo dire di più per convincervi? Che adesso è l'era del digitale. Dovete essere più moderni. Gente, più moderni. Ormai i negozi. Quelli che sono fisici. Sono anche online. Capito? E magari le stesse cose che mettono fisiche nei negozi. A un certo prezzo. Magari online sono scontate. Magari. Oppure, anche se non sono scontate. Risparmi qualche soldino. Perché magari mettono spedizione gratuita. Oppure, mettono per tot spesa. C'è la spedizione gratuita. Se non aggiungi la tot spesa, logico, devi pagare la spedizione. Cioè, dovete capire questo. Quindi, non solo i negozianti fisici devono guadagnarci. Ma anche noi, che siamo sempre persone fisiche, che lavoriamo online. Dobbiamo guadagnare pure noi. Dobbiamo campare pure noi. Che siamo disoccupati. Nella vita. Cioè, dobbiamo anche conoscere persone, aprirci al mondo del lavoro. Della vita sociale. Perché, come vedete, i datori di lavoro fisici, quando gli porti curriculum, te lo scartano. Te lo scartano. Non è che stanno lì a vedere le capacità che sai fare. Oppure ti telefonano e ti fanno un colloquio. Allora ti dicono Ah sì, va bene, puoi iniziare da subito. A lavorare. No. Ne vogliono troppe. Ne vogliono troppe. Da un candidato. che si candida a tale offerta. Vogliono la patente. Anche se è un lavoro d'ufficio, vogliono la patente. Se devi lavorare al supermercato, vogliono la patente. La macchina. Cioè. Boh, non ho parole. Oppure vogliono l'inglese fluente. Ma non tutti sono appassionati di lingue. C'è anche chi è appassionato di informatica e va male nelle lingue. Cioè. C'è chi è disabile e chi non è disabile che è disabile e ha più problemi ad imparare una certa cosa. c'è un datore di lavoro. Dovebbero venire un po' incontro alle esigenze delle persone e a quello che sanno fare le persone. Metteli alla prova le persone. Li devono mettere alla prova le persone. Fisicamente. Alla prova fisicamente. E poi decidere se prendere una tale persona oppure no. Ma no che fate colloqui. Un primo colloquio conoscitivo poi le faremo sapere e poi non fate sapere più niente. No. A quel primo colloquio deve seguire anche una prova. Anche... Io dico anche uno o due giorni di prova. Anche una settimana. Un mese. Però dopo cioè decidete se se prendere la persona oppure no. No che vi basta un colloquio fate quattro o cinque domande e poi cioè e poi basta. E no. non va bene così. E tutta questa cosa qui non esiste nel lavoro online. Il lavoro online lo posso fare tutti. Perché? Perché tu metti l'annuncio ti rispondono le persone ti chiedono informazioni e tu glieli dai. E possono farlo chiunque. Basta saper parlare con le persone non serve la patente non serve la macchina perché non sono lavori non più porta a porta non si fanno più le riunioni di persona e quindi non ti danno più i kit per lavorare fuori ecco nelle riunioni con le persone che gli fai provare i prodotti. le persone se vogliono provare un prodotto nei siti ci sono i link oppure c'è la scritta condividi il prodotto oppure c'è la scritta del carrello metti sul carrello e così si va a passaparola. Questo è marketing condiviso fare il passaparola di un tale prodotto se voi vi siete trovati bene con un prodotto lo condividete nei social facendo una recensione dicendo io ho provato questo prodotto tot e tot e mi sono trovata bene e anche ringraziando magari anche l'incaricata che ti ha fatto conoscere il sito ecco e così via questo è semplicemente questo i motivi perché uno inizia a lavorare online ecco per questo motivo qua perché online puoi lavorare ovunque o con lo smartphone con lo smartphone dico il cellulare o con i computer ecco quindi e potete lavorare ovunque ovunque vi trovate sempre non ci sono ferie non c'è vacanza puoi decidere te l'orario sei imprenditore o imprenditrice di te stesso o te stessa non dipendi dagli orari di ufficio ecco puoi rispondere a qualunque ora alle persone e questo è tutto spero che mi sia piaciuto questo video spiegazione anche se è stata un po' lunghetta la spiegazione però io ho spiegato come la penso ecco poi se voi la pensate diversamente lasciatemi commenti sotto al video ecco ditemi cosa ne pensate parliamo un po' almeno almeno ci conosciamo ciao ciao ciao